L'atteggiamento dell'arbitro, l'abbiamo detto, il look dei giocatori, fermetelo, fermetelo a farvi questi capelli, le moicane, le cose, i moicani erano dei grandi condottieri, voi siete le mezze secche, a dove siete? A dove presentete i granisti, capite? Che volete fare i moicani? Siete dei bei ragazzi, facetevi crescere i capelli, fate delle persone, io mi meraviglio degli arbitri, degli allenatori e anche delle società, ma che si può vedere su un scandale? Voi ho visto ultimamente anche uno del lanciano, fa che? Si ha fatto pure essere, come se tenesse la lingua sopra la no, la lingua dei vacchi sopra la coccia appoggiata, che schifo, un bel ragazzo come qui, io non lo so, comunque, continuate così, se ve lo permettono, io non so che cosa, e poi, ai giorni.